Buongiorno, mi chiamo Rogério Riccardo, sono l'amministratore unico di Tecinova SRL. Andando a creare Tecinova ho voluto aiutare soprattutto i nuovi imprenditori a creare nuove aziende, spin-off, start-up, soprattutto ad alto contenuto tecnologico che si possano imporre con il loro livello di competitività sul mercato. I nostri servizi fondamentalmente sono quelli di fare un audit di tipo tecnologico di quelle che sono le aziende e andare a capire quali sono le loro esigenze per poter offrire poi una serie di un pacchetto di servizi. I servizi sono di tipo prevalentemente finanziario, offrendo pacchetti di domande di finanziamento che possono essere di tipo regionale, nazionale e della comunità europea. Ad esempio la stesura di un business plan, che può servire all'azienda per cercare finanziamenti a livello bancario piuttosto che per ottenere investimenti da parte di Venture Capital, Business Angels, Private Equity. Facciamo anche servizi che sono un pochino più ad ampio raggio, andando a sviluppare insieme al cliente loghi coordinati, siti internet, tutte le necessità di certificazione. Questi servizi spesso non vengono fatti direttamente da Tecinova, ma da partner qualificati che negli anni Tecinova ha scelto come migliori professionisti sul mercato. Tecinova ha due sedi principali. La sede storica e sede amministrativa è a Saltrio, in provincia di Varese, ed è quella che è rivolta specialmente e soprattutto ai privati. Poi c'è una sede a Milano, in Viale Conesunia 15, dove invece prevalentemente abbiamo l'accoglimento delle aziende. Alcuni dati, Tecinova è un'azienda nata nel 2007, per quanto riguarda i dati finanziari, che forse sono i più eloquenti, nel 2009 abbiamo avuto tra finanziamenti di tipo pubblico, investimenti di tipo privato, quando parlo di finanziamenti di tipo pubblico intendo sia finanziamenti di fondo perduto che a credito agevolato, abbiamo avuto circa 4.800.000 euro di finanziamenti, a cui vanno ad aggiungersi alcuni investimenti da parte di business angels che hanno fatto nascere sette start-up. Infine abbiamo assistito tre spin-off universitari nella loro fase di nascita e sviluppo. Tecinova, innovazione con noi.